Allora perché l'hard rock? Guarda lì. Perché l'hard rock? Fondamentalmente perché... Si è rotta porca vacca. No. Gli è partito che cosa? Questo, vedi? Questo sopra. Questo sopra. Aia. Bene, questo è il bello della diretta, dai, un applauso. E come mai si è caduto? Grazie, grazie. La tratti sempre male questa Gripso. Ci vuole sempre perché se no... Però ha tenuto l'accordatura. Ha tenuto l'accordatura. Ha tenuto l'accordatura, quindi ancora per un pezzo poi la buttiamo. Ok.